Leonardo da Vinci, nato il 15 aprile 1452 a Vinci, nella italiana Toscana, è uno dei più grandi polimatichi della storia, noto per i suoi contributi in numerose discipline come l'arte, la scienza, l'ingegneria, l'anatomia e altro ancora. Leonardo era profondamente affascinato dalla natura e la considerava una fonte inesauribile di ispirazione e conoscenza. Il suo approccio alla scienza e all'arte era basato sull'osservazione attenta e dettagliata del mondo naturale, che poi cercava di comprendere, replicare e migliorare attraverso i suoi studi e le sue invenzioni. Riempiva i suoi famosi quaderni di schizzi e appunti su tutto ciò che osservava, le sue dettagliate illustrazioni di piante, animali e il corpo umano mostrano un livello di dettaglio e accuratezza che non era comune al suo tempo. È uno dei maestri del rinascimento italiano e ha lasciato un'impronta indelebile nell'arte con le sue opere pittoriche, che combinano una tecnica raffinata con una profonda comprensione della natura umana e una curiosità scientifica senza pari. Tra le sue opere pittoriche più famose si annoverano San Giovanni Battista, Il Battesimo di Cristo, L'Ultima Cena e La Gioconda. Leonardo da Vinci è famoso non solo come artista, ma anche come inventore geniale. Le sue invenzioni spaziavano in diversi campi, dalla meccanica all'ingegneria civile, dall'arte militare alla tecnologia aeronautica. Leonardo credeva che tutto nel mondo fosse interconnesso e che comprendere la natura fosse la chiave per comprendere l'universo. Le sue macchine volanti ispirate dall'osservazione degli uccelli e i suoi studi sul movimento dei corpi celesti e sulle proprietà meccaniche dei materiali sono solo alcuni esempi di come la sua osservazione della natura influenzasse direttamente il suo ingegno creativo e tecnico. Grazie per la visione! Grazie a tutti!